Da quando sono arrivata a Colorado Springs, ho sempre contato su di lei. Non ha mai avuto alcun timore di dirmi quando stavo esagerando. Forse non gliel'ho mai detto, ma gliene sono grata. E c'è anche un'altra cosa che non le ho mai detto in tutto questo tempo. E che le devo dire prima che se ne vada? Le voglio bene. Venga, Loren. Sapeva che ero io, eh? Sicuramente. Le ho portato la sua giacca. Ah, grazie. Mi chiedevo dove fosse finita. L'aveva lasciata di sotto. E non l'ha venduta. Allora, viene al ballo degli innamorati? No. Sentiremo la sua mancanza. È soltanto un ballo. Tenga. Eh, grazie. Io ho parlato con Preston. Ha detto che può tenere la stanza. Loren, lei è stato molto gentile a cedermi questa stanza, ma... È qualcos'altro per cui le sono grato. La sua cravatta è tutta quanta arrotolata. Non può andare al ballo combinato così. Aspetti. Fatto. Grazie, Loren. Al posto.